ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi come promesso facciamo GTA usciamo l'appartamento e andiamo a divertirci un pochino doveva uscire l'altro ieri però ho sbagliato l'ubblicazione e spero che ci siano intoppi faccio un attimo per evitare il bersaglio proviamo a vedere è già vicino a casa quindi vediamo proviamo devo ancora un attimo abituare non ho idea di cosa sia non so ne ancora però vediamo di fare tutto bella ziii ragazzi facciamoci valere vediamo un attimo andrò nuove curva bella di zioca facciamo l'anima facciamo il jade ho peraltro solo il colore perciò da lì da lì è un nero chiamava del cecchino fammi prendere quello la faccio facile Bella di bella, bella Ehi, dove stai andando? Ma che cavolo? Ragazzi, ma chi è che sta guidando? Cosa fai? Non devi prenderla, va che sparo a te Picciolo, 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 dove era? E zio, su Ma sei capace di guidare sto qua o cosa? E io intanto faccio Bella lì Ma non posso spararmi allora Dai da lì Quindi stanti sono Più di un passo Sono il mio L'ho preso io E' una qui 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 Dai la, fai i prossimi Andiamo da qua E' una roba fantastica Oh Ah che ti sparo le serbatoie E che cavoli E' una qui No E' una qui Ah ma non si vero Cos'è vero? Allora Ah ma sono io che guido E che cavolo dimmelo prima, no? T ح Sì ma ragazzi un po' più di velocità Sto bolide no eh Sì ma prendili che cavolo Su dai Non sono un genio di dare però almeno Sì ma è il mio avversario 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 Grazie mille per la bella porcetta Comunque io vi ricordo E se questo video vi è piaciuto Lasciate dei like Commentate Iscrivetevi E condividete a tutti quanti Io vi ricordo di lasciare dei commenti sotto E io vi lascio Con Un saluto elettrizzante E ciao Un saluto elettrizzante 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 Grazie a tutti.